ciao amici da frank bianconero vi invito se vi va sempre di iscrivermi al canale quando la possibilità di guardarmi le partite mi piace commentarle le guardie mi piace commentarle atalanta spalle dove la spalle è riuscita in un campo secondo me a volte quasi impossibile venire fuori a vincere 2 a 1 contro l'atalanta la spalle che ha fatto un'ottima partita non capisco diciamo la classifica che ha perché vedendo anche delle qualità di alcuni giocatori mi sembra strano sia meno forte di lecce o brescia o altre o altre squadre che sono lì in fondo io la vedo più come la sampdoria che come le altre squadre che sono sotto con questi tre punti si è tirata fuori dalla zona retrocessione per ora ma ha mostrato buonissime trame di gioco ha sofferto sì gli ultimi 20 minuti perché a bergamo si soffre automaticamente soffre chiunque qualsiasi squadra però è venuta bene è venuta su bene semplici secondo me l'ha messa in difficoltà perché ci ha messo sempre in mezzo le linee da bo di francesco o strafezza quel ragazzo sulla la destra niente male devo dire che quello in poche parole che ha sostituito lazzari più o meno anche l'esterno sinistro quello che era l'atalanta quello che ha fatto l'assist sul primo gol di petagna non mi ricordo il nome è un ottimo corridore sulla fascia sinistra che mancava anche lui comunque nei titolari da un mese e mezzo per i problemi fisici ma semplici ha dato proprio noi all'atalanta perché metteva sempre due dietro petagna perciò tra le due linee tra centrocampo e difesa e l'ha mandato in confusione secondo me gasperini l'ha letta troppo tardi la partita perciò la spalla non ha rubato assolutamente nulla è stata una partita equilibratissima dove qualche azione in più o qualche occasione in più l'ha avuta l'atalanta però la spalla ha giocato benissimo secondo me il migliore è stato valoti oltre al gran gol perché ha fatto un gran gol oggi sembrava valoti in mezzo al campo il vecchio redondo riusciva tutto doppi passi tunnel gli esterni comunque oggi ha fatto mi ha fatto un'ottima impressione non guardo tutte le partite alla spalla ovviamente premessa veniamo all'atalanta dove la guardo più spesso dove la squadra insieme alla lazio che mi diverte di più in questi ultimi due tre anni un po spenta è venuta meno nei suoi uomini migliori nella difesa toloi ha giocato meno bene del solito gomez oggi secondo me parecchio male anche nelle letture nelle ripartenze non leggeva bene il gioco oggi teneva troppo palla spesso la perdeva e ci sta ogni tanto e zapata ma zapata io l'alibi e lo do dopo due mesi e mezzo fermo uno che pesa 90 kg per quasi due metri prendere la forma e la lucidità ce ne vuole di tempo perciò un po di partite deve farle ma anche oggi a tre quattro cinque volte si è trovate in condizioni ottime per poter far gol e se pensiamo che l'atalanta abbia oggi secondo me giocata una delle peggiori partite di quest'anno poteva vincere la poteva se ne andava bene quelle due tre ripartenze dopo l'1-0 poteva stravincere anche questa partita stiamo parlando sempre una super squadra non come nomi perché tutti fanno riferimento sempre nomi ma come organizzazione come intensità che ci mette sempre oggi l'ha messa un po meno del solito ma è sempre un ottimo atalanta io vorrei conoscere il preparatore atletico che ha gasperini perché non dimentichiamo che questi ragazzi qua con nomi non altisonanti o con stipendi assurdi arrivano comunque anche da aver passato il girone di di champions perciò sempre chapeau l'atalanta per allenatore giocatori società e organizzazione e idee più che altro è una partita storta ci sta credo che la proprietà non non chieda lo scudetto a gasperini o la cemus league ma chieda proprio quello che sta facendo sta secondo me mantenendo i suoi standard a firenze non meritava di perdere oggi secondo me il pareggio alla fine sarebbe stato forse il risultato più giusto ma il calcio è bello perché questo possono vincere o perdere chiunque o pareggiare in qualsiasi campo tutte le squadre perché di che se ne dica il campionato italiano non lo possono giocare tutti i giocatori e le difficoltà sono enormi e si vede soprattutto sempre nei giocatori che arrivano da campionati che noi esaltiamo all'infinito ma a me questa partita è stata bella ovviamente ripeto sempre che quando lo si guarda in maniera disinteressata perché non si tifa né una né l'altra te la godi di più e riesci anche a proprio a godertela serenamente una partita e devo ammettere che quando vedo l'atalanta la vedo molto volentieri a me come calcio fa veramente godere perciò questa per me la sintesi della partita complimenti a tutte le squadre ottima partita atalanta un po spenta un po sbiadita rispetto alle ultime uscite ottima spalle che tutto sommato il risultato può essere anche giusto ciao a tutti da frank bianconero iscrivetevi al canale